tanti e tanti anni fa in un paese viveva un imperatore assai vanitoso forse non sarebbe neanche stato un cattivo imperatore ma la sua vanità era tanta e tale da rasentare quasi la vera e propria stupidità e fu così che un giorno arrivarono a corte due veri e propri imbroglioni ma furbi e senza scrupoli pronti a qualsiasi cosa per denaro i due uomini erano già a conoscenza della debolezza dell'imperatore per i bei vestiti e fu così che sparsero la voce di essere tessitori abilissimi capaci di creare una stoffa unica speciale questa stoffa risulta invisibile a chi degno non è vostra maestà un'altra stoffa risulta un'altra stoffa risulta matilde mi raccomando ricordati sempre di fare i complimenti eh l'imperatore concedete subito ai due imbroglioni una stanza dove poter tessere la stoffa meravigliosa senza essere disturbati da nessuno oddio non riesco a vedere la stoffa che sia stupido o forse non sono adatto a essere imperatore vostra maestà perché non sfoggiate il vostro nuovo abito in occasione del gran corteo che si non sfoggiate il vostro nuovo abito in occasione del corso si incamminava fra due ali di gente festosa e applaudente dal mezzo della folla si alzò una vocina era un bambino papà perché l'imperatore in mutande e subito quello che il bambino aveva detto iniziò ad essere sussurrato per tutto il corteo e la voce si sparse in un baleno e tutti iniziarono a ridacchiare a ridacchiare sempre più forte l'imperatore rabbrividì perché sapeva che avevano ragione e da quel giorno quando il resiedeva al consiglio dei ministri esordiva dicendo prego prego signori ministri dite pure liberamente le vostre idee le vostre opinioni ma mi raccomando ricordate di fare sempre come quel bambino che ebbe il coraggio di dire la verità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti